buongiorno scusa per monte cervialto grazie oggi ci troviamo alla ceno per salire su un monte cervialto a un'altezza di 1809 metri allora la partenza è qui come potete vedere siamo colle del leone da qui inizia il sentiero allora innanzitutto monte cervialto è la meta più alta dei monti piacentini ed è la quarta in campania adesso iniziamo qui siamo a 1200 metri qualcosa in più e facciamo questo sentiero che è di 7 chilometri all'andata quindi una percorrenza di due ore e dieci con tutta la calma e le nostre soste andiamo beh che dire abbiamo percorso più di metà sentiero e in questi giorni di calda troce vi consiglio proprio questo percorso che vi porta sopra il cervialto perché come vedete è tutto bello all'ombra siamo sotto questo bosco e soprattutto se partite presto la mattina come ho fatto io ci c'è stata una bella aria fresca fin ad ora il sentiero è stata una passeggiata adesso nell'ultimo tratto si sale virtualmente legginosamente come possiamo vedere stiamo salendo da lì lasciamo la cima del cervialto e ci incamminiamo facendo il percorso a ritroso fino all'inizio del sentiero siamo giunti alla conclusione del trekking di oggi se vi è piaciuto questo video se vi è utile ad organizzare il vostro trekking sul cervialto fatemi sapere nei commenti e iscrivetevi al mio canale in viaggio con il gas e alla prossima